Questa pianta, loro per abbassarla si mettono uno sull'altro, la afferrano per i denti e la tirano giù. Quando gli altri poi abbassano e mangiano, fai vedere pure quella mangiata di... Allora naturalmente, voglio dire, con questo sistema, questa pianta non vegeterà più. Noi la dobbiamo tagliare e poi aspettare ancora se il pollone verrà fuori per sì che arrivi a questo punto. Allora non è il danno del frutto che hanno mangiato, ma è il danno della pianta che noi dobbiamo aspettare ancora 4 anni per far sì che arrivi alla vegetazione. Angelo Fabbo, di Prata Principato Ultra, 65 anni, da 40 anni coltiva la terra. A stento riesce a trattenere le lacrime di rabbia quando ci mostra i danni subiti dal suo nocelleto per l'ennesimo raid dei cinghiali nella sua campagna di contrada a Carrani a Monte Falcione. In due anni ho perso 10.000 euro, ma non è una questione economica, aggiunge Fabbo. Ogni albero è come un figlio per me, per vederlo rinascere ora. Ci vuole un'altra vita. Vogliamo che queste situazioni la prendano sul serio a vedere come si può fare, perché l'associazione protezione animale, benissimo, proteggiamo gli animali. Ma a noi, a noi umani, chi ci protegge da queste situazioni? Ci danno il risarcimento, quando poi ce lo daranno, ma questi ci vengono caricate a noi di tasse ulteriori, perché ci devono prendere i finanziamenti. Lei da quanti anni lavora? Allora, io sono 40 anni che faccio l'agricoltore, ho iscritto, è tutto a posto, tutto in regola con i contributi e tutto. Ritrovarsi davanti questo scempio, per lei che significato? Ha significato che io sono figlio di queste piante, però nello stesso modo io sono genitore di queste piante. Perciò togliere a una persona o il genitore o il figlio è un danno che personalmente, voglio dire, a una persona umana, togliere il figlio o togliere il genitore è la cosa più dolorosa che si può. Ma lei mi sta dicendo che come vede il morire uccidere, anzi, dei figli? Dei figli oppure dei genitori, da cose, da situazioni che se loro vogliono possono proteggere anche questi animali, voglio dire. Il suo appello che è rivolto alla regione, alle istituzioni in generale? È rivolto alla politica in generale, perché da Contentini è promessa a tutti, ma non risolve i problemi, perché non si vuole fare i nemicizi. Lei andrà comunque avanti, nonostante tanti danni? Io ho la famiglia, grazie a Dio, che mi segue e cercheremo di andare avanti il più possibile. Naturalmente preghiamo il Dio che questi politici o questi burocrati cercheranno di risolvere questa situazione.